grande mister un saluto agli zebroni dai è un video grande facciamo qualcosa per il mister max facciamo un paio d'acquisti un paio d'acquisti facciamo è un paio d'acquisti pure tre un grande sono il ruolo mister che prendiamo il ruolo che prendiamo il centrocampo mister dai mister forza che arriva centrocampista puoi sapere troppo molta calma